tutti sui banchi la scuola è tornata in presenza da domani tre giorni di tamponi nelle scuole medie pesaresi bacini potenziata la sede di muraglia per le categorie fragili piazzale cinelli demolita la palazzina dell'ex dazio una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questa è rossini news il nostro telegiornale che in questo mercoledì 7 aprile apriamo dedicando il primo argomento a rientro a scuola nella città di pesero che è avvenuto in cocomitanza ai recenti provvedimenti del governo draghi e all'ingresso delle marche in zona arancione a cominciare da ieri questa mattina sono dunque tornati a scuola tutti i bambini dall'asilo nido alle medie ritorno invece con il 50 per cento di didattica in presenza per le scuole superiori mercoledì 7 aprile si torna sui banchi di scuola questo l'effetto del provvedimento del governo draghi che aveva previsto che anche dopo pasqua si sarebbe tornato sui banchi in zona rossa fino alle scuole medie per le scuole superiore determinante l'effetto del rientro in zona arancione della nostra regione superiori che tornano però al 50 per cento in presenza ma è già un passo avanti importante per gli studenti che per tante tantissime settimane sono stati a casa davanti a un monitor tutti relegati alla didattica distanza li vedete alle nostre spalle stanno pian piano entrando negli istituti qui siamo al campus scolastico di fronte al liceo e scientifico marconi e ogni scuola superiore pesarese torna al 50 per cento in presenza in maniera facoltativa o dimezzando l'istituto ma mantenendo le classi intere oppure dimezzando le classi all'interno delle aule noi abbiamo previsto per questi quattro giorni un rientro graduale delle classi in quanto avevamo già preventivato la partecipazione in presenza di alcune classi che da sempre da noi frequentano perché fanno i laboratori come le due classi del professionale alcune classi del genga e abbiamo invece ecco fatto in modo che in questi quattro giorni almeno una volta almeno una volta tutte le classi siano in presenza da lunedì invece partiamo con il 50 per cento facendo sì che abbiamo ci abbiamo diviso praticamente l'istituto in due gruppi e l'un gruppo il primo gruppo frequenta il lunedì mercoledì venerdì l'altro gruppo nei giorni pari martedì giovedì sabato e poi la settimana dopo si alterna così tutti i docenti hanno la possibilità di vedere le classi in presenza delle varie discipline e questo diciamo è la decisione che appunto abbiamo preso ripeto supportata dal collegio docente consiglio istituto eccetera se mi è permesso vorrei fare appunto un appello a tutti i ragazzi che utilizzano i mezzi di trasporto nel nostro istituto ad esempio sono tanti pendolari allora abbiamo visto che facendo noi nas hanno fatto questi questi diciamo tamponi no nelle parti di contatto tipo le maniglie poggiateste eccetera e abbiamo visto che sui mezzi di trasporto appunto c'è il virus quindi un appello davvero diciamo di cuore a questi ragazzi quando scendete dagli autobus mi raccomando utilizzate subito no disinfettante quindi mani eccetera sanificate e soprattutto durante il trasporto tenete sempre la mascherina sempre mi raccomando ragazzi mascherina se possibilmente anche quella ffp2 ma almeno la chirurgica mai toglierla giornata di rientro in presenza al 50 per cento per le scuole superiori giornata di rientro totalmente in presenza per tutti gli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado fin dall'asilo nido alla scuola media nello specifico qui siamo in una scuola primaria la don bosco dell'istituto comprensivo villa san martino i bambini sono tornati in classe cosa che avevano sempre fatto dal lockdown del 2020 fino allo scorso 10 marzo con l'entrata in vigore in zona rossa dunque da oggi si torna a quella che dovrebbe essere la normalità con tutti sui banchi adesso ritorniamo alla normalità tornare alla normalità è sempre semplice anche se questa è una normalità diciamo a metà perché comunque richiede di nuovo il rispetto di tutte regole di tutela della salute perché torniamo a fare scuola in mezzo alle mura della scuola nei corridoi ma sempre dovendo fare a meno di determinate attività per esempio nel campo della motoria non possiamo fare incontri di lavoro di progetto laboratoriali per noi che siamo una scuola che lavoriamo molto il come laboratorio è comunque un limite però il ritorno alla normalità consente ai bambini di vedersi consente il momento della ricreazione consente adesso forse noi siamo più fortunati non so tutte le altre scuole come siano diciamo sistemate però avendo giardini e andando verso la bella stagione tutto sommato questo momento è meno problematico di quello che uno potrebbe pensare tutto sommato perché si possono fare ritornare a fare come a settembre ottobre molti lavori fuori e sicuramente ribadisco per i bambini è un vantaggio è un vantaggio perché loro hanno bisogno di questa socializzazione però il bene comune della salute purtroppo che è un bene anche quello costituzionale ha richiesto dei sacrifici e che cosa dire di questi bimbi che tornano tornano in un ambiente che quello della scuola che ha questa grande capacità io ribadisco di adattamento la scuola è abituata ad affrontare imprevisti tutti i giorni anche se finora molti magari non lo sapevano non lo pensavano però la scuola è fatta di imprevisti forse questa è la sua bella caratteristica quindi essere tornati fra le mura tutto sommato per noi è come forse non essersi mai fermati di fatto e dunque si torna a scuola e ci si tornerà in sicurezza parte infatti domani il terzo screening di tamponi organizzato dal comune di pesaro che fino a sabato si concentrerà nelle scuole medie della città dunque domani per circa 840 luni di prima e venerdì e sabato per altri circa 1700 di seconda e terza media tamponi che saranno effettuati alle scuole gaudiano manzoni olivieri leopardi galilei pirandello e alla dante alighieri in quest'ultima saranno sottoposti al test anche i ragazzi della nuova scuola aile croce rossa protezione civile onlus gulliver e aspers saranno i coordinatori di una macchina organizzativa che dalle 8 e 30 alle 13 si sposterà fra i vari istituti coinvolti e parliamo ora di vaccini perché da questa settimana si intende imprimere una accelerata alla somministrazione delle dosi per le persone fragili vediamo a tal proposito come è andata la mattinata all'ospedale di muraglia non solo vaccinazioni all'ex ristò cresce sensibilmente anche il ritmo delle inoculazioni nel siero anticovid all'ospedale di muraglia in particolare quello del polo didattico della formazione aziendale universitaria che è l'hab cittadino dedicato ai vaccini alle categorie fragili questa mattina all'ospedale di muraglia si è presentato in un congestionato via vai di macchine con tante persone in fila per ricevere prima o seconda dose domenica qui a muraglia erano state vaccinate ben 810 persone un ritmo del weekend che ora si punta a trasferire pure nei giorni feriali con 600 vaccini al giorno dopo la velocità di circa 200 persone giornaliere tenute finora una macchina organizzativa complessa con protezione civile volontari che coordiano i malati oncologici pazienti di ematologia e soprattutto diabetici una delle categorie più rappresentate con 8.000 persone da vaccinare arriviamo anche oggi a sfiorare i 500 vaccini purtroppo noi abbiamo messo tanti volontari sparsi per non fare assembramenti ma la gente vuole arrivare fino davanti arrivano un'ora prima io credo che la nostra forza è quella la determinazione di arrivare a fare questi 8.000 di vezzi più presto possibile con marche nord hanno detto che ci avrebbero dato una mano e avrebbero dovuto vaccinare anche se noi da un mese che chiediamo perché prima abbiamo fatto un elenco per andare con l'asur come territorio poi la diabetologia le marche la regione giustamente la diabetologia qui a muraglia facciamo tutto qua però qua in questa zona capisci che se piove quello quell'altro parcheggio ce n'è tanto ma oggi vedete che è un macello io credo che è importante si vede la gente che ha voglia di venersi a vaccinare anche per la loro libertà per le loro cose per i familiari le persone e qui purtroppo noi non contiamo niente sotto un certo profilo ma contiamo molto per la gente che viene qui ci dice grazie. E restando in tema di vaccini domani arriverà nelle marche il generale francesco paolo figliuolo il commissario straordinario per le misure nazionali a contrasto dell'emergenza epidemiologica incontrerà il presidente della regione marche francesco acquaroli e l'assessore alla sanità filippo salta martini per fare il punto sulla campagna vaccinale nella nostra regione. Figliuolo troverà delle marche che registrano oggi un importante calo dei ricoveri sono infatti 897 i pazienti in edegenza nelle strutture ospedaliere della nostra regione cioè 27 in meno di ieri 139 invece i pazienti in terapia intensiva cioè 2 in meno di ieri. Calano al 9% anche i tamponi positivi processati nell'ultima giornata. Nello specifico 286 casi registrati dal servizio sanitario regionale su 3199 nuove diagnosi per un totale di 5459 tamponi complessivi. Pesor Urbino risulta la provincia più colpita con 128 casi. E un'altra struttura fattiscente della nostra città viene demolita. Si tratta della palazzina di Piazzale Cinelli di fronte all'ingresso dell'ospedale San Salvatore. E' stata abbattuta la palazzina dell'ex Dazio in Piazzale Cinelli. Il rudere di fronte all'ingresso dell'ospedale San Salvatore è stato demolito in un piano di riqualificazione urbanistica voluto dal comune ma contestato nei mesi scorsi dal consiglio di quartiere centro storico e da esponenti della Lega fra cui Giovanni Dallaste e Francesco Totaro che avevano criticato la scelta di un'operazione che porterà via altri parcheggi in un'area fra ospedale centro storico e stazione ferroviaria dove la sosta non è certo abbondante. Una dozzina gli stalli che verrebbero a mancare secondo la Lega, la metà quelli che verranno sottratti secondo l'assessore comunale Riccardo Pozzi in un'operazione che nasce dalla permuta di un edificio a Trebbia Antico che trasformerà la destinazione d'uso dell'area pubblica di Piazzale Cinelli in una palazzina residenziale con sei appartamenti ma anche un piccolo tratto di pista ciclabile che proseguirà il tratto già esistente proveniente da Porta Rimini. Ieri su Rossini News vi abbiamo approfonditamente parlato della riapertura dei negozi in concomitanza del rientro in zona arancione. Un rientro in arancione che attualmente però è un piccolo pagliativo per le tante attività lavorative reduci da un anno disastroso. Non solo nel commercio ma anche nell'artigianato, uno stato di crisi che ci viene ricordato dal segretario di CNA Moreno Bordoni. 2021 che per l'artigianato è cominciato portandosi gli strascichi di un 2020. La crisi del settore è la crisi dei sussidi adeguati ad attenuare a questo stato di sofferenza? Assolutamente sì, dopo più di un anno ancora purtroppo stiamo parlando di emergenza. Per molti artigiani è stato un anno non orribile a livello economico ma un anno completamente cancellato. Purtroppo i sostegni non sono stati né tempestivi né sufficienti e allo stesso tempo le ripetute chiusure in questo anno hanno permesso purtroppo ai nostri impeditori di non lavorare come avrebbero dovuto ma di avere perdite cose importanti. Questo è il sentimento che alleggia adesso in questo momento gli artigiani ma soprattutto quello che pesa di più è questa sensazione di incertezza. Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, non c'è certezza di quando si potrà continuare a lavorare. Perché io lo ricordo per l'ennesima volta, i nostri imprenditori non vogliono l'elemosina ma vogliono essere messi in grado di fare il loro lavoro. Da uno studio fatto dalla CNA nazionale che ha preso 12.000 contabilità che noi teniamo presso i nostri uffici tra cui qualche centinaio anche della provincia di Pese Urbino si evince che migliaia e migliaia di imprese hanno avuto un calo del fatturato intorno al 28%. Quindi fissare l'asticella al 30% per quello che riguarda il decreto sostegni vuol dire che migliaia e migliaia di imprenditori non potranno avere nulla e vi ricordo che in un'annata normale avere il 28% di perdita probabilmente vuol dire la chiusura. Immaginate voi qual è lo stato d'animo dei nostri imprenditori. Si concretizza l'operazione Sport Sicuro promossa dal Comune di Pesero. Ieri il Muraglia Calcio ha sottoposto ai primi tamponi rapidi i giovani della Juinores e i ragazzi della prima squadra usufruendo così dell'opportunità data dall'amministrazione che ha donato 2.600 tamponi a 35 società sportive della città. Il Comune di Caglia ha confermato oggi la sua adesione agli itinerari della bellezza di Confcommercio partiti 4 anni fa con 4 comuni e ora arrivati a 13 amministrazioni unite nella valorizzazione del loro patrimonio culturale e turistico sotto il coordinamento di Confcommercio. Entro la fine di aprile saranno completati i lavori della nuova tribuna ospiti dello stadio Mancini di Fano. Subito dopo verranno installate 4 nuove torri di illuminazione. A fare il punto della situazione oggi il vice sindaco fanese che ha effettuato un sopralluogo agli interventi di ammodernamento dell'impianto, interventi che sono partiti a fine autunno. E come sempre vi ricordiamo il nostro numero dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 e proprio in tema di segnalazioni oggi ci sono stati inviati alcuni video relativi alla insolita nevicata avvenuta in questo 7 aprile che ha fatto vedere qualche fiocco di neve anche a Pesaro. Video che si riferiscono appunto alle 11 e un quarto di questa mattina a Pesaro e Montegaudio con questa leggera imbiancata che ha caratterizzato la seconda parte della mattinata. E concludiamo il nostro telegiornale in musica dando spazio a giovani talenti del nostro territorio. In particolare oggi andiamo a conoscere Chiara Bigini, giovanissima cantante 17enne di Pesaro che a fine marzo ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo Quello che non c'è. Ho passato un momento, un periodo un po' brutto in fatto di amicizie proprio verso i primi mesi del 2020, fine 2020, inizio 2021 e quindi è nato un po' questo brano dall'amore ma amore in amicizia e quello che non c'è è un po' appunto quello che io sentivo distante da me in quel momento, quell'amicizia, quell'amico, quegli amici che mi stavano distanti e che non avevo in quel momento. Nel novembre del 2019 ho incontrato per la prima volta Davide Pagnini tramite l'insegnante della mia scuola di canto, Linda Centini, che appunto me l'ha presentato, era in cerca di una voce comunque per iniziare un progetto e quindi niente abbiamo iniziato a conoscerci e abbiamo iniziato un po' a parlare di musica, di quello che ci appassionava, dei nostri gusti musicali preferiti. Purtroppo però con la pandemia, con il coronavirus, praticamente si è interrotto tutto per un anno e abbiamo ripreso verso novembre, quindi dopo un anno nel 2020 e abbiamo iniziato a scrivere il testo della canzone e ci abbiamo messo poco perché appunto ci siamo trovati subito in sintonia e poi verso gennaio siamo andati a registrare su Ad Alfonsine e quindi poi il 27 di marzo è uscito finalmente quello che non c'è. Un primo singolo significa anche un primo passo, verso quale direzione? Ancora non lo so perché il canto l'ho sempre visto come una passione più che come un lavoro futuro, un qualcosa di futuro, però adesso con questa uscita di questo mio primo singolo sono molto contenta di aver fatto quello che ho fatto e spero vivamente di avere un'altra possibilità, un'altra opportunità e lo spero veramente tanto. La canzone si può trovare su Digital Store cliccando tramite un link ma si può trovare tranquillamente su Spotify, Amazon Music, YouTube, infatti tra poco uscirà anche un video live su YouTube a breve e ringrazio tanto Davide Pagnini e Raffaele Montanari che appunto mi hanno dato l'opportunità di realizzare un po' questo mio sogno e ringrazio anche i miei insegnanti che sono Linda Centini e Alessandro Roselli che hanno sempre creduto in me. Non è stato facile E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarci però vi ricordiamo la nostra prima serata che comincia alle 21.15 con una nuova puntata della nutrizionista a chilometro zero. La nutrizionista Raffaella Bocchetti in un format che è prodotto in collaborazione con la Col di Retti, Pesaro e Urbino e la Camera di Commercio delle Marche. A seguire alle 21.30 una nuova puntata di BP Cube in forma. Gli ospiti di questa sera saranno Enrico Battistelli fondatore di BP Cube e l'avvocato e consigliere regionale Nicola Baiocchi. Parliamo anche della serata di domani, il giovedì come sempre è la serata di insieme a Canestro, il nostro programma condotto da Marco Cadedu dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che avrà come ospiti Matteo Tambone, guardia della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, il presidente di Papalini S.P.A. Mauro Papalini e l'ex giocatore della VL Roberto Terenzi. Ve lo ricordiamo, l'appuntamento giovedì, ovvero domani alle 21.15. Giovedì è anche la serata di Spazio Web Live, un nuovo programma musicale che è cominciato ieri e che avrà la seconda puntata già domani alle 22.15. Programma condotto da Michele Panzieri e da Michele Panzieri e Topazio Perlini che si concentra sui talenti musicali del territorio e domani sarà il turno di Lorenzo Pizzorno. Dunque Spazio Web Live andrà in onda tutti i martedì e tutti i giovedì e poi il sabato alle 21 è possibile vedere entrambe le puntate del martedì e del giovedì. E con questi appuntamenti è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale. Da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i programmi di Rossini TV.